Passa l'ideale anticorruzione alla Camera ma ci sono problemi, il PDL non ha votato ci sono state defezioni, secondo lei si farà questa legge? Si deve fare questa legge e deve entrare in vigore per chi non può essere candidato in quanto condannato subito a partire dalle prossime elezioni. Direi che bloccare questa legge è un atto di perfetto autolesionismo politico, mi auguro che il PDL non voglia intraprendere questa strada, autolesionismo anche per loro.